Ciao, io sono il cane Yuko e oggi è le Yuko's Day, ovvero il giorno in cui i padroncini mi fanno fare tutto ciò che voglio. Inizialmente non capivo dove mi avessero portato, c'era soltanto un piccolo laghetto e delle brutte statue che erano veramente inquietanti, tranne quella coniglietta, beh, lei era molto carina. Ma poi ho letto il cartello lì vicino ed ho subito capito, eravamo in un bellissimo parco faunistico pieno di animali, infatti si è avvicinato subito uno strano cane con le corna che mi ha fatto follemente innamorare. Non dimenticherò mai il tuo bellissimo sorriso e poi ho visto loro e mi sono spaventato, erano uccelli senza piume o con un becco enorme, mentre lui aveva soltanto un ciuffo un po' ribelle. E poi è successa una cosa terribile, quel gufo mi ha attaccato, forse perché guardavo la fidanzata aquila, è tutta colpa di quello spione. Ma per fortuna ho incontrato anche dei volatili che non ce l'avevano con me, come questo bellissimo tutto colorato oppure loro, anche se erano molto più alte di me e beh, mi facevano un po' paura.